Un business online rimane ancora oggi una grandissima opportunità. Puoi fare da solo delle cose che avrebbero richiesto un sacco di persone fino a pochi anni fa. È molto più facile, ma rimane comunque complesso. Come minimo ti servono contenuti, email e qualcosa per vendere online. Se tu usi piattaforme diverse, devi imparare diverse piattaforme e poi farle comunicare tra di loro. In più, la cosa si complica ancora di più se poi vendi cose diverse, diversi tipi di prodotti, per esempio un corso e una membership, oppure anche una consulenza. E poi magari devi contattare le persone in diversi modi, con diverse automazioni, eccetera. Allora, per chi non vuole smanettare con diverse piattaforme, ci sono soluzioni tutto in uno. Oggi voglio parlarti di una di queste soluzioni, che si chiama System.io. Io sono Alberto Cabasvidani di ItalianIndie.com e anche in questo video ti parlerò di come lavorare meno per lavorare meglio e dedicare tempo a ciò che crea valore nella tua vita e nel tuo lavoro. Io sono un informatico e ho sempre usato soluzioni separate, una per l'email, una per il sito e poi una per vendere, perché le so mettere insieme senza problemi. Ma comunque effettivamente ogni tanto mi fanno impazzire perché qualcosina in più devi sempre lavorare. Soluzioni come System.io ti permettono di semplificare di molto il lavoro, anche se comunque ti serve imparare ad usarle e per questo oggi ti faccio questo corso completo. Perché System.io? Mi hanno contattato i creatori di System.io per farmi notare, guarda, abbiamo creato un piano gratuito. Il piano gratuito è gratuito per sempre e adesso ti voglio far vedere cosa include. Per farti capire intanto se va, se fa il caso tuo. Vedi che i piani a pagamento hanno prezzi abbastanza allineati con il resto dell'industria. È il piano gratuito che può sbloccarti e poi darti un aiuto, soprattutto se stai appena cominciando, perché stai portando il tuo business offline online oppure perché stai creando un business online da zero. Con questo tool puoi avere duemila contatti, quindi duemila email. Puoi avere e inviare limitate email a questi duemila contatti, creare tre funnel di vendita, vedremo più tardi di cosa si tratta, e ogni funnel può avere al massimo 15 step. Sicuramente 15 step sono sufficienti, te lo dico per esperienza, anzi talvolta ne bastano magari 5. Puoi avere un blog con post illimitati, quindi sostanzialmente fai un sito e questa è la limitazione secondo me più grossa. Puoi avere un solo corso. Allora il discorso è questo, quando cominci non hai bisogno di lanciare 10 corsi, hai bisogno di un corso. Quindi l'idea è questa, tu parti con il piano gratuito. Se il primo corso funziona e cominci a fatturare, a questo punto probabilmente hai i soldi per coprire i 27 euro al mese, ma non devi prenderti un rischio incredibile lanciando un corso che non sai se venderà e pagando già di partenza. A questo corso possono accedere illimitati studenti e una cosa interessante è che hai una community inclusa nel piano gratuito. Le community sono diventate sempre più utili, quasi indispensabili per far funzionare un corso online, perché la gente può trovare i contenuti gratis ma non può trovare una community di qualità gratis. Quindi questa è una feature interessante. E poi hai uno spazio di archiviazione limitato, che questo è molto utile, e queste voci qui sono un po' più misteriose perché automazioni, campagne e email hanno una definizione specifica dentro system.io, quindi bisogna un attimo andare nei dettagli per capire di cosa si tratta. E poi ci sono tutta una serie di altre funzionalità che sono utili, ma che insomma darei per scontate, perché se no non puoi farci niente. Per esempio integrazione Stripe, integrazione PayPal, e una cosa interessante è il programma di affiliazione, ma spesso quando parti da zero il programma di affiliazione non ti porterà a grandi risultati. Questa è la dashboard che vedi quando crei un account su system.io da zero. Ovviamente non c'è assolutamente nulla. E come vedi c'è sia la dashboard che la dashboard tua come creatore, che quella come studente, un po' come su Gumroad, puoi vedere la lista dei tuoi corsi, quelli che eventualmente hai comprato su system.io. E poi le varie voci ti mostrano cosa puoi fare. C'è la lista dei contatti, come su un CRM o un tool di gestione dell'email, c'è la gestione dei funnel, poi la possibilità di mandare email, newsletter o campagne, il tuo blog e le automazioni, che sono una cosa appunto definita in maniera particolare su system. E poi il tuo pannello dei prodotti. Qui vendite sono le tue statistiche che ovviamente sono totalmente vuote, perché su questo sito non ho venduto niente, ma sostanzialmente questo ti permetterà di recuperare transazioni per vedere per esempio i tuoi clienti migliori, fare i rimborsi, eccetera. Hai separate le transazioni, gli abbonamenti e poi il programma di affiliazione. Ma non mi soffermerò sul programma di affiliazione perché è una cosa che in molti casi non ti serve. Allora andiamo a vedere le varie sezioni. Cominciamo dai prodotti, perché supponiamo che tu voglia usare system per vendere e di conseguenza crea il tuo prodotto e poi organizzi le vendite. Come puoi vedere puoi anche mettere in piedi proprio un e-commerce perché è una delle voci e prodotti fisici. Allora andiamo a crearne uno e quindi vendiamo il nostro widget, questo è il primo prodotto, ci aggiungiamo il nostro scu, anzi lo mette in automatico, possiamo inserire le tasse che vengono automaticamente impostate all'iva italiana e poi ci metto un prezzo 85 euro e possiamo inserire però manualmente il limite delle scorte, quanta roba abbiamo in magazzino, che per un prodotto fisico ovviamente è essenziale. Eventualmente si può caricare una immagine, mettiamo una immagine casuale di quelle che ho sul mio computer e possiamo eventualmente far scegliere diverse varianti, sai come per esempio il colore. Mettiamo quindi colore e allora ci sarà verde, rosso, giallo. e eventualmente potremo spaziare con le varianti. Per ciascuna variante potremmo inserire la foto, adesso non mi dilungo, insomma è ovvio cosa puoi fare qui. Viene generato automaticamente uno scu, quindi un codice univoco per ogni variante e possiamo eventualmente eliminarle da qui e eventualmente le scorte di ciascuna variante e le varianti potrebbero avere prezzi diversi. Quindi diciamo che una ne ha 80 euro, l'altra 85 e l'ultima 90. A questo punto io salvo il prodotto. Prima di salvarlo riassumiamo diciamo quello che è importante. Questo qui è un tool tutto in uno. Il limite grosso di tool tutto in uno oltre alla tariffa fissa che devi pagare è che non puoi aggiungere funzioni. Quindi ti prendi la comodità ma paghi in opzioni di personalizzazione e questo è quello che vedremo in tutte le voci di menu di System.io. Quindi se tu sei un esperto di e-commerce e vedi questa pagina e dici eh ma vorrei mettere che so la possibilità di uno sconto e non c'è. Purtroppo te lo devi tenere così. Questo è il costo diciamo di un sistema della comodità di un sistema tutto in uno. Ho salvato il prodotto e adesso che è salvato posso vedere la lista qui e se voglio vabbè posso modificarlo rimuoverlo e nient'altro. Questa è la lista dei miei prodotti. Nel momento in cui le persone cominceranno a comprarli qui nella pagina ordini vedrò i miei ordini ma chiaramente ora non c'è nulla. Ora che ho un prodotto come lo metto in vendita devo creare un funnel. Allora clicco su funnel anche qui è tutto vuoto clicco su crea e a questo punto lui mi chiede il solito nome chiamiamolo semplicemente widget e poi mi dà la possibilità di creare un funnel personalizzato da zero. Questa opzione qui dei webinar evergreen non è presente nel piano gratuito quindi lasciamo stare e invece mi dà anche la possibilità di filtrare tra funnel per costruire un pubblico o funnel di vendita quindi un funnel per acquisire i contatti email oppure un funnel per vendere qualcosa. Allora potrei partire dal personalizzato ma di solito quando usi questi tool tutto in uno lo fai perché non hai voglia di smanettare troppo quindi non parti da un funnel personalizzato cerchi di usare il loro template quindi clicchiamo su vendita e poi su salva. A questo punto sono tornato alla pagina dei funnel e clicco sul funnel che ho appena creato. Questa è la finestra che si propone e vedi che le cose cominciano a complicarsi c'è un sacco di roba da guardare ma è inevitabile perché un funnel comprende molti passaggi per esempio qui c'è il modo d'ordine la pagina di ringraziamento e la pagina che si mostra quando il funnel viene disattivato. Di meno di così non puoi avere. Allora come procedere per non impazzire? Prima di tutto devi impostare il modulo d'ordine e vedi che qui ci sono diversi template anche se premo su 30 ci sono ancora ulteriori pagine quindi ti perdi un po' di tempo guardi template e attenzione qui è importante entrare nel mindset giusto. Questi tool che coprono tutti gli aspetti della creazione di un sito proprio di un business online ti danno un vantaggio enorme che è la comodità ma questa comodità la paghi con dei limiti sulla personalizzabilità ovvero hai sostanzialmente dei pacchetti di cose già pronte ma queste cose non puoi averle esattamente come vuoi tu non puoi avere tutte le funzionalità che vorresti non puoi avere personalizzare tutti i colori tutte le forme tutte le funzionalità eccetera quindi la mentalità giusta quando usi questi sistemi è cercare di sfruttare il più possibile quello che c'è senza doverci mettere le mani e accontentarsi di non avere di non corrispondere esattamente all'ideale che hai in testa anche perché comunque te lo dico da faccio business online da più di 13 anni le persone non vedono tutti i dettagli che vedi tu i micro dettagli di una pagina di vendita per esempio non impattano tanto quanto per esempio il marketing che fai il valore del tuo brand il valore l'utilità del prodotto che vendi quindi puoi metterti il cuore in pace da questo punto di vista con questo con questa mentalità sostanzialmente quando si tratta di impostare il tuo modulo d'ordine tu semplicemente guardati le anteprime dici ok questo qua mi piace lo selezioni a questo punto compare la pagina di personalizzazione del modulo d'ordine puoi selezionare il nome allora per renderlo univoco diciamo che è quello relativo al widget e poi puoi impostargli un url di solito non ti serve proprio usare un url specifico per il modulo d'ordine perché tanto non dovrai passarlo dovrei memorizzarlo e puoi specificare una commissione di affiliazione univoca per questo nel caso tu abbia degli affiliati e un limite di vendita che comunque ho già messo nel prodotto quindi non vado a modificare poi posso aggiungere un coupon clicco sul più seleziono il tipo di sconto e posso scegliere i coupon non ho creato ancora dei coupon quindi ne creo uno nuovo clicco qui e mi cambia tutta l'interfaccia allora chiamiamo questo coupon 20 per cento perché sarà uno sconto del 20 per cento sul widget poi gli diamo un codice il codice mnemonico che puoi dare al ai tuoi al tuo pubblico quindi chiamiamolo 20 widget lo sconto sarà in percentuale e la percentuale di sconto sarà il 20 per cento eventualmente gli specifichi una cadenza poi sai il solito limite di utilizzo attenzione che non me l'ha presa ecco e poi salvi ok adesso abbiamo attivato il coupon 20 widget possiamo visualizzare il passaggio di questo funnel quindi il modulo d'ordine vado a cliccare su visualizza e questa sarà la pagina ovviamente il prodotto mi fa vedere non è il mio prodotto cosa c'è c'è un problema che non c'è l'indirizzo c'è il cap ma manca il resto dell'indirizzo è molto interessante però che è già pronta la pagina la variante società così se sei una società puoi specificare la partita iva allora come facciamo a personalizzare questa pagina a cui manca l'indirizzo clicchiamo su modifica pagina e qui si apre un vaso di pandora perché la pagina può essere personalizzata in mille modi e vedi che puoi aggiungere diversi elementi puoi aggiungere dei blocchi ciascun blocco include altri elementi ma poi quando tu clicchi su un blocco puoi modificare un sacco di cose allora il mio consiglio qui rimanendo nella mentalità di prima è di non andare a smanettare troppo con il design quindi le dimensioni dei vari riquadri il font dei vari riquadri eccetera ma di scegliere un template che è vicino a qualcosa che ti piace e di fidarti di quello perché se non sei un designer è molto facile fare dei danni quello però che ti può servire sicuramente è aggiungere le cose che non servono come per esempio che ti servono e non ci sono come per esempio l'indirizzo che non è richiesto in questo in questo modulo allora come si fa andiamo qui indietro e trasciniamo un modulo di input devi trascinarlo per esempio qui sotto ok e questo modulo di input ci clicco sopra e gli dico che è indirizzo quindi qui ci sarà la via probabilmente la via è il numero ma ci manca anche un altro modulo perché c'è il paese ma non abbiamo la provincia o la regione quindi un altro modulo di input lo trascino qui la seleziono e scelgo stato provincia ma attenzione qua è successo qualcosa abbiamo questo modulo che è largo metà e quest'altro che occupa un sacco di spazio allora probabilmente questo qui andava messo qua sotto come si fa allora se lo seleziono non si può fare granché se clicco su queste frecce non succede niente ecco me l'ha spostato da sopra allora conviene cliccare qui e non succede niente allora lo rimuoviamo ok e diciamo così scegliamo questo modulo di input lo duplichiamo e così compare esattamente sotto e a questo punto cambiamo il numero il tipo di modulo e quindi mettiamo stato provincia ora vedi che c'è un problemone perché mentre questi sono belli separati questi qua non sono per niente separati come si fa il mio suggerimento è di andare a vedere cosa c'è in questo modulo che non c'è di là vado vado qui e guardo guardo e vedo che per esempio c'è questo margine in alto che mi sospettisce perché margine in alto è la distanza dal blocco che c'è sopra clicco qui vado a vedere se anche lì il margine in alto è lo stesso e no non lo è quindi metto qui 25 il valore che era di là e adesso i moduli sono posizionati ugualmente purtroppo la dimensione è un pochino diversa perché vedi che questo qui è un po più basso di questo allora dove sarà la dimensione vado a cliccare qui e vediamo qui c'è per esempio l'altezza della linea che è 23 potrebbe essere quella oppure vediamo scendo giù non trovo altre informazioni rispetto alla dimensione andiamo a vedere com'è la dimensione della linea su questo altezza della linea perdonami infatti è più alta quindi mettiamo 23 passiamola con questo e adesso sono alti uguali purtroppo ti troverai un po a smanettare in questo modo speravo che questo sistema rendesse un po più facile questa operazione ma quando vai a cambiare i template un pochino c'è da lavorare comunque basati su quello che c'è già per capire come cambiare le cose che hai aggiunto è molto interessante questo questo campo qui che permette di cambiare il comportamento della pagina è molto interessante questo campo qui che è proprio un elemento specifico si chiama tipo di cliente proprio e che quando lo inserisci seleziona le i campi diversi così ti facilita il discorso della partita iva che in italia è una rogna galattica e un'altra cosa molto importante è questa cosa delle impostazioni che ti permette di cambiare in un colpo solo tutti i font predefiniti e alcuni aspetti generali della della pagina senza dover andare per esempio a cambiare elemento per elemento un'altra cosa forte è che puoi inserire qui il tracciamento da facebook che quando si parla di pagine per l'ordine il carrello elettronico sostanzialmente è molto utile perché ti permette di valutare se effettivamente le tue costose ads stanno portando risultati e un'altra cosa ancora è che questa parte qui sopra è un altro elemento semplicemente quindi questa navigazione è una riga di una sezione e se vuoi puoi rimuovere e poi inserirci quello che vuoi siccome è un modulo di pagamento io toglierei tutto quanto proprio no per non distrarre dal pagamento e perdere delle vendite ultima cosa riguardo all'uso di questa pagina è che se tu clicchi su un elemento per esempio questo questo campo di testo qui sopra ti fa vedere il percorso di navigazione diciamo cioè ti fa vedere che questo elemento testo è contenuto in una riga è contenuto in un'altra riga è contenuto in una sezione così se cerchi delle impostazioni e non le trovi qua dentro magari sono contenute nella riga oppure contenute nella riga che la contiene a sua volta oppure nella sezione è molto utile riuscire a ricostruire e selezionare le varie parti del del tuo la tua pagina in questo modo riguardo agli elementi non te li descrivo tutti quanti ma e ti conviene imparare dai template vedi che tutti questi moduli in cui si può inserire informazioni sono moduli di input per esempio poi scrollando qui trovi il tipico pulsante chiaramente e poi ci sono gli utilissimi e sempre necessari il campo di testo e il titolo e quando hai bisogno di modificare una pagina vai a vedere se puoi rubare qualcosa dal template oppure scrolli ma vedi che comunque non sono infiniti e sono abbastanza auto esplicativi e ognuno chiaramente avrà le sue impostazioni una fonte di confusione per me è questa qui quando vado a cliccare sulla salva modifiche clicco salva modifiche e mi dice l'elemento prodotto è obbligatorio cosa cavolo significa perché qui c'è già il prezzo del mio del mio prodotto allora la soluzione che mi è venuta in mente è che devo trascinare un elemento prodotto quindi prendo prodotto fisico e lo trascino qui ma vedi che mi duplica le informazioni che erano già qua sotto allora sinceramente non ho trovato una risposta nella documentazione per quanto la documentazione sia dettagliata avrei potuto contattare all'assistenza ma non era indispensabile in questo caso quindi diciamo che mi serviva il elemento prodotto fisico allora a questo punto non mi servono queste cose qua sotto e quindi vado a cancellarle tutte quante vediamo se posso cancellare esatto tutto il layout vedi che se mi sposto qui però impazzisco perché non mi becca il menu sopra vedi non riesco quindi vediamo se posso fare così ok la selezionata ma come faccio a rimuoverla ecco posso andare qui quindi per rimuovere tutto questo blocco qui seleziono la riga e clicco qua sopra ok lo elimino e anche tutto questo blocco qui lo voglio eliminare ok vediamo se così ho risolto il problema clicco salva modifiche e dice l'elemento tariffario è richiesto nelle pagine di pagamento quindi immagino che l'elemento questo qui non andasse eliminato però vedi che queste questi errori sono un po creano un po di confusione e probabilmente chiedendo all'assistenza mi avrebbero spiegato di cosa si tratta comunque la pagina l'abbiamo salvata possiamo uscire e abbiamo configurato il nostro primo passaggio e come vedi per ogni passaggio per ogni pagina quindi ci sono diverse diversi elementi qua sopra la configurazione passaggio che è essenziale poi eventuali automazioni poi gli split test quindi se vuoi testare diverse varianti della stessa pagina puoi usare questa funzione qua e sugli split test devo dirti una cosa molto importante è vero che servono possono cambiare proprio le sorti del tuo prodotto perché magari cambiando il colore di un pulsante o il test della pagina aumenti di molto le vendite però se non hai migliaia o talvolta decine di migliaia di visualizzazioni della pagina lo split test non è statisticamente significativo quindi è una funzione utile ma che spesso non ti serve se hai un volume di vendite basso poi c'è questa interessante pagina delle statistiche che al momento chiaramente è vuota e con il tasso di conversione che è un valore importante da tenere d'occhio e i contatti quindi le persone che hanno comprato attraverso questo modulo il totale delle vendite e eventuali impostazioni di scadenza cosa vuol dire vuol dire che tu puoi far scadere la pagina quindi se tu hai un prodotto per esempio un corso online che è in vendita per soli sette giorni metti una pagina e questa pagina metti una scadenza e questa pagina quando scadrà poi ti mostrerà la pagina inattiva e infatti vedi che puoi andare a redirezionare quando la pagina scade ora questa pagina non è stata inizializzata probabilmente quindi non posso selezionarla qui addirittura puoi specificare anche l'ora esatta che di solito ti conviene perché sai dici le vendite si chiuderanno alle 10 di sera per esempio no ok adesso la disabilito perché sennò mi darebbe errore quando hai configurato il modulo d'ordine chiaramente configura la pagina di ringraziamento e chiaramente fai il stesso processo quindi scegli un modello vai a modificare la pagina se ne hai bisogno a questo punto potresti voler modificare vedi le testi la struttura eccetera cosa che non andiamo a fare adesso e una volta pronta ti ritrovi con la pagina modulo d'ordine e pagina di ringraziamento pronte cliccando su pagina inattiva abbiamo questa pagina già pronta quindi clicchiamo salva e usciamo ok questo è il funnel minimo che puoi impostare ma vedi che qui sotto c'è questa voce aggiungi step cliccando su aggiungi step vuol dire che aggiungi un'altra pagina allora supponiamo di fare un lancio con una scadenza e che chi non vedrà la scadenza voglia vedere una possa entrare in una lista d'attesa allora creerò una pagina con la lista d'attesa quindi una volta che il prodotto non è più disponibile ti lascio iscrivere ad una lista d'attesa quindi creo una pagina di tipo squeeze page il punto salvo e ho bisogno di trovare un template questi template iniziali non sono mica granché mi sta mostrando praticamente di tutto e a me basta ecco una squeeze page come questa o ancora più semplice quindi una pagina semplice con la possibilità di aggiungere una sola email e vedi che purtroppo questo è uno dei limiti in cui si incorre qua c'è veramente di tutto e ci sono dei template fin troppo complicati e non c'è un modo per cercare quindi non trovo una cosa che andrebbe a caso mio così com'è devo prendermene una e poi andare a modificarla questa sarebbe la pagina lista d'attesa vado a modificare e qui ti trovi magari a dover fare un sacco di lavoro vedi non mi servono tutte ste robe qua e in questo caso sarebbe stato meglio poter creare una pagina totalmente da zero perché ho bisogno solo del modulo email in sostanza allora vediamo se era possibile creare una pagina totalmente da zero faccio aggiungi step e questo chiamiamo la lista d'attesa da zero e vediamo purtroppo vedi che non si può fare assolutamente allora l'unica soluzione è andare a correre tutti i template fino a che non ne trovi uno che ti richiede pochissime modifiche proviamo a selezionare questo qua clicchiamo su modifica ecco qua questo è molto meglio perché non c'è tutta la roba che c'era dall'altra parte quindi qua potresti scrivere il lancio è chiuso iscriviti alla lista e poi questo è un blocco di tipo ballot list quindi lista puntata chissà perché non hanno tradotto non è quello che ci interessa lo cancelliamo però possiamo aggiungere un altro blocco di testo trascinandolo qui e per qualche motivo non è permesso perché non è permesso proviamo di nuovo ecco qua adesso è permesso e ogni tanto succedono queste cose da varo informatico so che basta riprovare sarai il primo a sapere del prossimo lancio ok? un copy veramente sofisticato una cosa utile è separare abbiamo visto prima che conviene cambiare i margini ma sorpresa sorpresa eccolo qua bisogna andare qui e specificare cliccare su questa icona per separare i margini allora posto di là e separo le due cose e qui c'è il nostro modulo per andare a inserire la propria email e c'è un sacco di roba in più quindi cancello tutto quello che non mi serve purtroppo devo per qualche motivo dare la conferma ogni volta che rimuovo un blocco ok e poi ok e poi ok ecco qua e questa riga ha due colonne ma sinceramente non vorrei avere due colonne quindi vediamo se posso portare trascino fuori dal layout e poi lo cancello ok e così mi trovo una pagina molto più usabile anche questa riga qui questa sezione qui è una totale distrazione quindi la seleziono e la cancello ok salvo la pagina torno al mio funnel cancello la precedente pagina lista d'attesa ecco ti ho fatto vedere tutti questi passaggi per farti capire come anche un tool tutto in uno comunque richiede un po' di lavoro e il metodo che ho seguito è quello che ti conviene seguire nel senso che provi un template vedi quanto sarebbe necessario modificarlo per usarlo nel tuo caso se non va bene provi con un altro template stai molto di meno così piuttosto che andare a modificare fare mille modifiche ad un template troppo complesso questa pagina lista d'attesa da zero è quella che usiamo se facciamo la scadenza quindi vado sulla mia pagina scelgo il modulo d'ordine scelgo la pagina scadenza abilito la funzione scadenza e dico che la pagina scade tra sette giorni quando sarà scaduta metterò manderò sulla lista d'attesa ok e clicco su salva a questo punto il mio funnel è pronto quando una persona vuole comprare visualizza il funnel e clicca qui eccetera e va a comprare chiaramente questa pagina non permette di pagare perché non ho ancora specificato i dati di pagamento come lui mi ricorda ogni volta che ricarico la pagina allora con tutto questo lavoro noi abbiamo creato un prodotto abbiamo creato un funnel minimalissimo e volendo possiamo condividere il link a questo funnel a questa pagina per far comprare direttamente le persone e come si fa a condividere il link? torniamo sulla nostra modulo d'ordine e questo qui è il URL se lo copio apro una nuova finestra lo visito proviamo anche a visitarlo come a titolo dimostrativo da una pagina in incognito e questo qui è il widget che possiamo comprare ok questo qui è un funnel che funziona e ora è elencato nei nostri funnel abbiamo visto che nella pagina del funnel c'è questa cosa regole di automazione che suona benissimo perché le automazioni ci piacciono e vogliamo riuscire a rendere le cose più automatiche e lavorare di meno allora andiamo a scoprire queste automazioni clicco su aggiungi regola e vedi che così mi mostra quattro condizioni questi sono gli inneschi quelli che altri tool chiamano trigger di una automazione quali sono questi possibili trigger? la nuova vendita quindi quando un cliente compra qualcosa quando una vendita viene annullata quindi quando un abbonamento viene cancellato o viene richiesto un rimborso quando una pagina viene visitata quindi quando una persona visita una specifica pagina tra quelle che hai inserito oppure quando fallisce il pagamento di un abbonamento e questo è un problemone perché spesso quando ci è successo tantissime volte quando una persona si abbona magari usa una carta prepagata non la ricarica e al prossimo abbonamento l'abbonamento non viene rinnovato e quindi devi disattivare tutto un sacco di cose oppure vuoi semplicemente mandare un reminder allora per esempio proviamo a cliccare nuova condizione nuova vendita perdonami questa è una condizione ovvero quando una persona acquista una nuova vendita vogliamo far succedere qualcosa clicco su modifica e posso aggiungere un'azione clicco su aggiungi azione quando una persona compra quindi quando succede una nuova vendita posso iscrivere la persona ad una campagna quindi ad una sequenza di email rimuoverla da una campagna per esempio stavo mandando una campagna di lancio tiro fuori la persona dal lancio posso taggarla quindi per esempio metterla tra i clienti posso inviare una singola email quindi ad esempio una persona mi compra un prodotto in cui c'è un bonus che è una consulenza gratuita posso mandare un email con una consulenza gratuita posso inserirla in un corso quindi ha comprato un prodotto e ci aggiungo un corso o toglierla chiaramente dal corso e questa funzione qui il webhook ti permette di connettere system a altri prodotti come per esempio make e far scattare altre ulteriori automazioni oppure puoi inserirla in una community o addirittura iscriverla ad un pacchetto di corsi quindi una cosa tipica è aggiungere un tag e quindi aggiungi l'acquirente al tag clienti in maniera da avere un gruppo in cui conservi tutti i clienti questo ti permetterà per esempio di inviare email a tutti i clienti salviamo questa regola a questo punto ne aggiungiamo un'altra possiamo dire che quando uno viene rimborsato allora clicchiamo qui aggiungiamo un'azione e rimuoviamo il tag tiriamo via il tag clienti per esempio queste sono le cose più banali attenzione se vuoi fare più di una cosa quando viene effettuata la vendita allora clicchiamo di nuovo qui possiamo aggiungere un'altra azione semplicemente quindi diciamo che una persona quando ha fatto un acquisto deve ricevere una specifica email quindi clicco su invia un'email e qui potrei scegliere un'email non ho creato delle email che andrebbero create qui nel menu allora clicco su più e per esempio ecco la tua consulenza gratuita e qui sotto scriviamo clicca sul link per prenotare la cosa tipica e mittente io email mittente mettiamo la mia email e possiamo come capita in tutti i tool di questo tipo inserire questi campi questa è l'email del utente questo è il nome dell'utente quindi possiamo dirgli ciao e aggiungere qui la variabile allora o la copio da qua quindi la seleziono ctrl c la metto qui e la incollo ctrl v oppure posso aggiungerla semplicemente così che è più veloce quindi questo no sostituisce l'email serve meglio chiaramente mettere il nome ecco sostituisce il nome al alla variabile first name quindi se c'è un utente di nome corrado che mi ha comprato un prodotto questa email andrà ciao corrado eccetera eccetera boh qua c'è un avviso sulle sulle politiche di google yahoo ma non è un problema clicchiamo su salva e dobbiamo prima di tutto confermare il nostro indirizzo email che è l'indirizzo email della della nostra del nostro account adesso lui fino a che non lo confermo mi continua a dare questo problema ok ho separatamente confermato l'indirizzo email adesso vediamo ok me lo prende e vedi che quindi io posso elencare tutta una serie di azioni che si verificano quando una persona ha comprato salviamo questa regola e poi posso elencare una serie di azioni quando la persona annulla la venta chiede il rimborso eccetera eccetera e questo è molto molto utile perché sicuramente quando uno compra devi dargli qualcosa per esempio appunto aggiungere ad una community quando compra un corso rimanendo nella pagina dei funnel vediamo l'altro tipo di funnel se clicco su crea c'era questo panel costruisci un pubblico quindi chiamiamolo lead acquisition per usare un termine quelli bravi e costruisci un pubblico clicco su salva e vediamo cosa ci propone questo il default il minimo indispensabile è una squeeze page una pagina di ringraziamento e poi la solita pagina in attiva quindi niente esattamente quello che abbiamo fatto prima per la pagina della della lista della lista d'attesa e quindi andiamo a scegliere una squeeze page questi questi design sembrano attraenti ma sono totalmente inutili perché una squeeze page deve essere minimale deve portare le persone a convertire velocemente la squeeze page di solito la usi perché per esempio hai una campagna a pagamento un facebook ads e lo mandi la mandi ad una pagina in cui ci si può iscrivere a lista email oppure hai una contenuto un blog un articolo un video su youtube e mandi la gente la tua squeeze page quindi la gente arriva lì deve solamente iscriversi velocemente così hai questo contatto e poi puoi vendere le tue cose quindi molti di questi template sono troppo 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 complessi invece per esempio un template come questo andiamo a vedere l'anteprima è più interessante ora è molto lungo però la parte utile è qua e c'è tutta quindi per esempio la mia squeeze page potrebbe essere questa e andiamo a modificare la pagina l'editor è sempre lo stesso ovviamente e chiaramente è utile avere i testimonial se ce li hai e scegli un template di questo tipo però solamente se hai bisogno di tutta questa roba altrimenti scegli un template più semplice come quello che ti ho fatto vedere prima molto importante il modulo di raccogliere l'indirizzo email chiaramente non ha bisogno di nessuna configurazione perché è tutto interno se tu l'avessi usato per esempio su Elementor su WordPress avresti avuto bisogno di collegarlo al tuo tool per l'email ma in questo caso è tutto configurato il pulsante inizia ora è semplicemente un elemento di tipo pulsante e quando lo scegli hai una serie di azioni che puoi mostrare questo è inviamodulo ovviamente quindi invii questo modulo oppure puoi aprire un pop up o andare ad una pagina oppure inserire un passaggio successivo che non è una cosa che ci interessa in questo momento la parte dei pop up può essere interessante perché magari vuoi usare una pagina con due passaggi quindi non metti il modulo dell'email qui dentro ma usi un pop up ma vedi che selezioniamo qui mostra pop up non abbiamo nessun pop up e dobbiamo crearli stessa cosa ce lo dice anche qua vedi se clicco su pop up qui in altro posso creare il pop up e quindi si crea un pop up minimale ma assolutamente assolutamente positivo assolutamente funzionale e vedi che qui se vuoi puoi modificarlo esattamente come il resto della pagina ci trascini dentro i tuoi blocchi e lo modifichi ora questo pop up non ci serve ecco possiamo modificare le impostazioni e eventualmente mostrare il posizionale di chiusura oppure aprirlo in automatico in base ad un ritardo e eventualmente aprirlo all'uscita eccetera allora in una squeeze page ci serve solo se vogliamo togliere il campo email dalla squeeze page e mostrarlo nel pop up sarà più utile eventualmente in altre pagine per esempio una pagina di blog l'home page del nostro sito eccetera quindi a questo punto torniamo indietro alla lista dei pop up ecco e questo pop up lo eliminiamo perché non ci serve era per farti vedere che c'è anche l'editor dei pop up salviamo questa pagina che comunque diciamo che va bene così com'è sono stato troppo veloce a cliccare e dopo la pagina della squeeze page serve solo la pagina di ringraziamento ne scegliamo una a caso perché al momento non abbiamo bisogno di andare troppo in dettaglio e questo funnel è pronto quindi per esempio qui potrei dire newsletter ok supponiamo che puoi condividere la tua squeeze page con il tuo pubblico di youtube quindi per rendere i tuoi utenti youtube dei veri iscritti a cui puoi vendere attraverso le tue email crei questa squeeze page con la sua pagina di ringraziamento e gli dici ok alla fine di ogni video andate su il tuo dominio slash newsletter perché questo è il dominio di system ma tu puoi aggiungere il tuo dominio personalizzato nelle impostazioni il tuo dominio slash newsletter e riceverete la mia newsletter ogni settimana con i segreti per diventare più ricchi in due giorni e così hai un modo per acquisire i tuoi iscritti mail senza dover avere ulteriori tool per creare le tue landing page eccetera questo qui è un tipico funnel di lead acquisition allo stesso modo puoi prendere questo link e metterlo in una campagna di facebook ads siamo partiti da un prodotto fisico e poi ti ho mostrato come fare un funnel per la vendita e anche poi un funnel per la lead acquisition così ho approfittato per farti vedere gli editor le automazioni eccetera ma ci sono altri prodotti estremamente interessanti inclusi in system.io andiamo a curiosare come si realizzano nella sezione prodotti vedi che trovi corsi e community quindi con corsi immagino di poter sostituire quello che si può fare per esempio con teachable ovviamente la nostra pagina corsi è vuota andiamo ad aggiungerne uno nuovo chiamiamolo corso 1 per semplicità ovviamente potremmo definire un dominio personalizzato ma questo va impostato in impostazioni generali abbiamo alcuni temi vedi che sostanzialmente cambia solo il colore quindi ne scelgo uno a caso e andiamo a creare il nostro corso clicco sul corso e prima buona notizia puoi dividere questi corsi in moduli esattamente come puoi fare su teachable e altri ovviamente usiamo la massima fantasia e lo chiamiamo modulo 1 questo modulo è vuoto devo cliccare qui è un po' macchinoso e vediamo subito che posso creare un quiz o modificare le impostazioni clicchiamo su impostazioni e semplicemente posso associarlo ad una pagina di vendita quindi sostanzialmente creo un panel di vendita specifico del corso e lo associo a questo modulo e poi vabbè posso cambiare il nome ma come posso aggiungere delle lezioni ecco qui avevo semplicemente cliccato sul nome una volta di troppo e comparso aggiungi lezione clicco su aggiungi lezione questa è la chermata completa vedi che ci sono alcuni template che sono quelli diciamo essenziali il primo template è una lezione è una pagina un po' più con un design un po' più articolato chiamiamo così e poi c'è la pagina col video la pagina con l'immagine la pagina solo testo e la pagina solo video scegliamo per esempio questa chiamiamola lezione con video e una cosa curiosa è che si può impostare il ritardo con cui questa lezione sarà disponibile questa opzione non è più tanto di moda me l'ha richiesta qualche cliente ovvero è possibile distribuire le lezioni con non mi ricordo di quale piattaforma parlavamo con un po' di ritardo al giorno di oggi tutti i corsi che ho comprato e ne ho comprati molti di recente perché volevo un po' rubare così i loro segreti tipicamente gli danno tutte le lezioni disponibili tutte in una volta e poi magari mandi dei reminder via email per ricordare di seguire le lezioni e comunque eventualmente potresti impostare il ritardo delle lezioni e se abiliti i commenti è un modo per dare un supporto aggiuntivo è una cosa che puoi promuovere sulla tua pagina di vendita comunque abilito i commenti a questo punto la pagina è pronta e la salvo quindi nel mio modulo è comparsa la lezione con video e vedi che qui c'è scritto che può che l'accesso è immediatamente consentito contenuto a goccia non è una traduzione è una traduzione letterale di drip content che è il termine inglese per dire quando distribuisci quando consegni le lezioni con un certo ritardo e poi eventualmente possiamo decidere se attivare o disattivare visualizzare l'impostazione e eventualmente guarda aggiungere un'email che comunica quando la lezione è disponibile nel caso appunto sia contenuto a goccia e se vogliamo modificare la lezione clicchiamo su modifica e vediamo il nostro noto editor con alcune opzioni di meno rispetto a quelle che vedevamo nella pagina di vendita nel carrello ma vedi è molto carino il design è proprio piacevole e vedi che tu puoi aggiungere delle righe per raggruppare i blocchi di testo e aggiungere diversi blocchi di testo per strutturare poi qui usi un layout a due colonne per affiancare l'immagine al testo e puoi eventualmente cambiare le dimensioni e qui invece ci sono un layout molto più complesso quindi c'è una colonna dentro una colonna una doppia colonna dentro una doppia colonna per mettere queste iconcine qui non ti consiglio di perdere tutto questo tempo per strutturare le tue pagine l'importante è il contenuto comunque poi andiamo a vedere l'anteprima di questa lezione questo è quello che vede l'utente solo che non vediamo il layout della pagina vediamo niente purtroppo questo comunque è il layout del corso possiamo cliccare su visualizza per chiedergli di visualizzare la lezione ma purtroppo l'anteprima è ancora così ovviamente possiamo aggiungere altri moduli e altre lezioni e eventualmente aggiungere gli studenti a mano ma chiaramente tipicamente gli studenti li aggiungiamo con una vendita quando acquistano il il corso la lezione non è visibile perché non l'abbiamo attivata vado qui su attivo clicco su conferma adesso riproviamo a vedere l'anteprima del corso ecco qui questo è un passaggio abbastanza inutile perché non dovresti attivare la lezione appena creata comunque adesso che l'ho attivata ecco vedi che qui c'è la lezione e posso scrollarla tutto molto leggibile qui posso lasciare il mio commento e l'importantissimo tasto segna come completo chiaramente se io vado ad aggiungere un modulo 2 ok e poi aggiungo una lezione lezione 1.2 nel modulo 1 la salvo e poi cliccando qui aggiungo la lezione 2.1 al modulo 2 salvo ok poi le attivo tutte quante adesso ti faccio vedere che aspetto ha il corso andiamo qui lo ricarico ecco qua adesso vediamo la lista delle lezioni stranamente non si vede la lista dei moduli in questa visualizzazione qui è una scelta un po' strana per vedere la lista dei moduli devi andare nelle impostazioni e andare qui mostra i titoli dei moduli per gli studenti salvare andare qui ed ecco qua che si vedono i moduli non so perché non sia di default attivata ma è sicuramente molto più interessante vedere i moduli altrimenti quando hai tante lezioni qui diventa un disastro e visto che siamo nella pagina delle impostazioni come puoi vedere puoi modificare il titolo del corso il nome dell'insegnante la lingua mettere una descrizione del corso assegnarci un dominio personalizzato se l'hai associato al tuo account e poi vabbè alcune cose come le copertine le foto insomma dei dettagli simpatici ma non indispensabili e anche qui puoi cambiare la pagina di vendita in sostanza molto lineare c'è quello che serve e trovo un sistema essenziale ma completo diciamo per la creazione dei corsi e puoi anche definire dei pacchetti quindi tu vai a creare un pacchetto e puoi associare diversi corsi e clicchiamo su pacchetto aggiungi un corso scegli un corso corso 1 quindi volendo tu puoi creare tanti corsi e metterli insieme in un pacchetto ma attenzione perché nella versione gratuita puoi creare un solo corso e quindi questa funzionalità non è molto utile in realtà un'altra cosa però importante che voglio vedere sono le community perché vedi che c'è tra i prodotti la voce community perché sono importanti le community perché in realtà la modalità di corso migliore oggi nel 2024 è quella che ti dà una componente di contenuto consumabile a piacimento sostanzialmente una serie di lezioni video testi eccetera che uno si guarda ma tutti sanno benissimo che il contenuto si può trovare gratuitamente al 99% e è molto utile la struttura del corso ma spesso puoi imparare gran parte del corso studiando per conto tuo quello che convince di più all'acquisto e che ti permette anche di alzare il prezzo è il supporto extra che puoi dare questo supporto lo puoi dare nei commenti come ti mostravo un attimo fa ma è ancora più utile nella community allora per avere una community che funziona devi avere un corso con decine e probabilmente centinaia di iscritti perché molti sono passivi lo vedi continuamente ho partecipato a corsi con centinaia di iscritti anche a community con centinaia di iscritti la maggior parte delle persone così si fa vedere ogni tanto oppure passa tutto il tempo solamente a leggere e non partecipa quindi una community grossa con molto coinvolgimento è difficile da portare avanti però puoi usare la community come strumento per fornire il tuo supporto diretto e quindi avere questo enorme archivio che in cui permette alle persone di vedere la tua esperienza le tue capacità nell'aiutare allora creiamo una community andiamo qui clicchiamo su crea chiamiamolo ovviamente community e ok abilitiamo l'approvazione automatica dei posti insomma questo è un dettaglio ecco lasciamogli come path nell'indirizzo nell'url la parola community clicchiamo su salva abbiamo creato la nostra prima community vado ad aprirla e questa è la pagina di impostazione della community allora vedi che c'è la lista dei membri che ci sono solamente io con la foto di Samuele oppure possiamo decidere vabbè il nome e il percorso che abbiamo deciso prima se è una community privata quindi sostanzialmente la associamo per esempio ad un corso o la associamo ad un prodotto abbiamo visto prima nelle automazioni che puoi associare una automazione che fa entrare una persona in una community dopo un acquisto e questo sarebbe per esempio una community privata in cui in automatico metti le persone dentro la community dopo un acquisto e di nuovo c'è l'approvazione automatica dei post se vogliamo specificarla andiamo a salvare la community pubblica è interessante perché a questo punto puoi usare puoi creare il tuo forum pubblico graduito e usarlo come uno strumento di per esempio lead acquisition le persone entrano nella community capiscono che gli interessa e allora poi vanno a comprare un prodotto potresti avere una community pubblica che fa da marketing una community privata solamente per i clienti avanzati e qui poi puoi definire gli argomenti quindi per esempio si parla di molte cose potrebbe essere fotografia di paesaggio e sono sostanzialmente le categorie di un forum no? ah sì ok impostiamo il percorso oppure c'è street photography supponendo di avere una community che parla di fotografia ovviamente e non c'è granché come spesso capita le community le piattaforme per le community grosse quelle più diffuse costano costano un abbonamento hanno un abbonamento mensile piuttosto costoso e hanno un sacco di opzioni quando prendi questi tool come appunto system o altri come podia per esempio che ti danno la possibilità di creare una community insieme ad un miliardo di altre opzioni ti danno meno possibilità la community è molto più scarna quindi qui per esempio io potrei aggiungere il mio post e lo chiamiamo primo post mettiamolo nel argomento fotografia di paesaggio prova e potremmo aggiungere una fotografia mettiamo questa che non è una fotografia di paesaggio ma comunque carichiamo ah ok era solo lo screenshot possiamo eventualmente fare l'upload di un file ok e questo sarebbe il primo post purtroppo la community è tutta qui vedi questa è la community e se vado a quest'url posso vedere questo gli argomenti un feed un feed che mostra tutto quanto e poi un feed per ogni argomento ovviamente se hai mai usato un gruppo facebook ma anche un server su discord un anche un canale slack e per certi versi anche i gruppi whatsapp o le community su whatsapp sono molto più sofisticati di questa roba qua e mi aspettavo un po' questa delusione il vantaggio solamente è che questo è totalmente integrato con il resto noi abbiamo gestito e abbiamo ancora delle community collegate ai nostri prodotti e spesso l'inserimento del cliente dentro la community risulta è da fare a mano perché non ci sono tutte le automazioni alcuni tool le hanno altri no oppure devi impostare automazioni extra quindi che so acquisto del prodotto su gameroad e poi l'inserimento del cliente su slack attraverso make quindi la cosa si complica come ti dicevo all'inizio di questo video allora in questo caso la funzionalità community c'è è usabile ma è molto molto basilare questa è la funzione community torniamo alla nostra dashboard abbiamo visto quindi sostanzialmente tutti i prodotti che si possono creare con system qui il menu vendite sono solo statistiche e nel menu automazioni ci sono le regole che riassumono le regole che abbiamo impostato prima quindi qui hai un menu completo un archivio completo di tutte le automazioni che hai impostato per i tuoi prodotti e infatti guarda puoi filtrarle in base al tipo di trigger di condizione o di azione e se sono attive o non attive in maniera da eventualmente rimuoverle o modificarle con un colpo d'occhio unico perché a un certo punto quando magari ti ritrovi con tanti prodotti impazzisci non ti ricordi più dove sono messe le varie automazioni e quindi ti conviene andare in questo menu qui oppure addirittura puoi crearle da qui quindi clicchi crea azione scegli una condizione e scegli un trigger vedi che qui le condizioni sono diverse nel senso che l'automazione che abbiamo visto prima era riferita ad un prodotto ma qui trovi delle automazioni generali riferite al tuo account quindi per esempio ogni volta viene aggiunto un tag puoi mandare un'email ad esempio vedi che poi ci sono delle condizioni relative ai funnel ci sono automazioni relative alle campagne oppure cosa fare quando qualcuno completa un corso quando qualcuno si iscrive ad un corso quindi puoi collegare tra di loro tutti i moduli di system e se guardi bene questa lista vedi che puoi agire su più o meno tutto quello che si può fare dentro system.io c'è un problema però come spesso capita le regole di automazione sono limitate nelle versioni in base al prezzo e infatti se andiamo qui troviamo regole di automazione una nel nel caso del prodotto gratuito nel caso del prodotto a pagamento ne hai solo 10 quando paghi 27 euro al mese quindi le automazioni sono la prima cosa che ti fa esplodere il costo del prodotto ed era da aspettarselo e comunque il funzionamento è lo stesso che abbiamo visto di là se per esempio dici viene aggiunto un tag clienti allora quale azione fai per esempio metti mandi una campagna al nuovo cliente o gli invii una email le azioni sono più o meno le stesse che hai visto di là mentre cambiavano le condizioni nella sezione automazioni c'è un'altra voce che si chiama flussi di lavoro anche qui nella versione gratuita hai un flusso di lavoro come funziona il flusso di lavoro clicchiamo su crea chiamiamolo flusso ok andiamo a aprire il nostro flusso di lavoro cosa si può fare questa è un'automazione visuale in cui possiamo scegliere un trigger e vedi che sono gli stessi trigger di prima ok quindi per esempio email aperta ecco quando l'email viene aperta dopo che l'email è stata aperta facciamo un'azione oppure mettiamo una decisione quindi sostanzialmente decidiamo in base ad alcuni valori cosa fare e l'ultima opzione è un ritardo quindi quando l'email di scelta della consulenza viene aperta ok cosa possiamo fare applichiamo un tag tanto per cambiare purtroppo qui non puoi creare il tag questa è una grande seccatura quindi devi andare nel tuo menu contatti tag e creare un tag e lo chiamiamo consulenza richiesta per esempio ecco siamo qui dobbiamo ricaricare azione applica un tag consulenza richiesta ok quindi quando viene aperta l'email della consulenza applichiamo il tag per esempio oppure potremmo cliccare qui mettere una decisione e verificare dopo qualche giorno se l'utente ha effettivamente prenotato quella consulenza quindi andiamo a mettere un ritardo mettiamo un ritardo di un giorno crea quindi dopo un giorno vogliamo verificare se l'utente ha cliccato quindi l'email cliccata ok crea quindi se l'utente dopo un giorno ha cliccato sul link per prenotare la consulenza allora se ha cliccato gli applico il tag però vedi che questo non posso trascinarlo quindi devo rimuovere questo tag ok mettere qua azione applica un tag e scegliere consulenza richiesta ok se non ha cliccato allora metto un'altra azione e gli dico vediamo se si può cercare email esatto invia un email e creo una nuova email in cui gli dico ricordati di prenotare ok adesso c'è un altro email che non mi lascerà salvare ma comunque ci siamo capiti in sostanza questo strumento ti permette visivamente di creare dei percorsi di automazione parti da una condizione oppure puoi mettere addirittura diverse condizioni e sono le condizioni che abbiamo visto precedentemente e in base all'evento che succede puoi fare tutta una catena di eventi qui le cose possono complicarsi da morire ovviamente soprattutto se hai tanti prodotti tante sequenze di mail eccetera e le azioni che puoi compiere sono semplicemente aspettare oppure creare delle condizioni quindi verificare che per esempio l'utente abbia fatto un'azione abbia abbia un tag oppure abbia qualche suo campo abbia un valore specifico quindi solo gli utenti che hanno più di 25 anni mandi una certa email eccetera e poi puoi compiere specifiche azioni che sono sostanzialmente tutto quello che puoi fare dentro il system quindi applicare i tag rimuovere i tag iscrivere i corsi rimuovere dai corsi iscriversi alla campagna rimuoversi dalla campagna eccetera le stesse che hai visto precedentemente quando sei pronto devi ricordarti che questa automazione è da attivare quindi esci e viene salvata automaticamente clicchi sui tre puntini e clicchi su attivo e quando sarà attiva l'automazione partirà ricordati sempre di tenere d'occhio le tue automazioni attive perché quando sono troppe poi ti possono creare confusione cliccando su impostazioni puoi semplicemente cambiare il nome questi sono i flussi di lavoro e che sono un valore aggiunto in sistemi come questo come system appunto io perché ti permettono di andare a mettere insieme tutte le parti in movimento di questo di questo di sistemi come questo che appunto hanno come grande vantaggio il fatto di essere integrati non ci manca molto abbiamo visto che c'è questa voce contatti in cui puoi modificare i tuoi tag puoi crearli no e rimuoverli o rinominarli ed eventualmente filtrarli e vedi cliccandoci sopra quali persone hanno questo tag applicato e poi c'è appunto la lista dei contatti che puoi filtrare in base ai campi e puoi anche salvare eventualmente i filtri per avere dei segmenti a cui mandare per esempio velocemente le email i funnel li abbiamo già visti noi abbiamo visto la sezione email quindi supponiamo che tu hai cominciato a acquisire clienti acquisire contatti allora a questo punto li vuoi contattare appunto puoi mandare quelle che lui chiama newsletter quindi clicchiamo su crea ovviamente la chiameremo newsletter perché no il mittente sono io vabbè mettiamo e usiamo l'editor visuale o l'editor classico l'editor classico è è molto ecco usiamo l'indirizzo che ho già registrato l'editor classico è questo l'editor testuale e non devi preoccuparti i le email testuali funzionano anche se tanti tool ti presentano dei sistemi avanzatissimi per fare email molto belle da vedere possono essere utili per esempio in e-commerce se vuoi evidenziare la bellezza dei tuoi prodotti ma quando si parla di un newsletter usa l'editor testuale e eventualmente ci aggiungi un'immagine in mezzo se hai qualcosa proprio da mostrare ma non preoccuparti usa la versione testuale e ti risparmia un sacco di lavoro come puoi vedere poi l'email una volta che l'hai scritta puoi inviarla direttamente inviare un test che le prime volte può essere utile e puoi salvarla e programmarla ok però prima di inviarla bisogna selezionare i tag perché i tag ci dicono a chi mandare sostanzialmente questa email quindi supponiamo per esempio di avere una squeeze page quando per gli iscritti al newsletter quando una persona si iscrive applichi un tag usando le regole che ti ho fatto vedere prima il tag newsletter per esempio ora in questo caso io ho usato il tag cliente perché ce l'avevo ce l'avevo creato e posso salvare e programmare e semplicemente posso scegliere una data e un'ora a cui mandare questa email come ti ho fatto vedere prima questo editor classico ti permette di accedere a queste variabili che ti permettono di qui vedi variabili di usare i campi dei tuoi iscritti adesso esco perché non ho bisogno di altro quindi sostanzialmente le newsletter sono quelle che in altri tool vengono chiamate campagne per creare un po' di confusione quindi sono singole email che tu mandi ai tuoi iscritti invece quelle che lui chiama campagne sono quelle che altri tool tipicamente chiamano sequenze email se vado sul menu campagne clicco su crea chiamiamola campagna clicchiamo sulla voce campagna e ancora vuota posso ovviamente modificare il titolo e la descrizione ma soprattutto clicco su crea e qui avremo email 1 il mittente è io o forse devo esatto devo di nuovo mettere la mia email ecco qua e semplicemente posso salvare e pubblicare questa email questa voce mi chiede dopo quale email aggiungere questa e al momento non ho altre email oppure il ritardo in è il ritardo in giorni io metto ritardo zero perché vuole essere la prima email posso specificare un orario della giornata effettivamente può essere un'idea simpatica e in quali giorni inviare questo può essere utile perché talvolta tu mandi l'email automatico in base alla data di iscrizione del del tuo lettore ma capita che poi l'email viene mandata in un giorno in cui nessuno legge oppure che si sovrappone a che so il giorno in cui mandi la newsletter allora diciamo che mandi la newsletter il venerdì ok non voglio mandare l'email automatico il venerdì quindi gli dai il ritardo gli dai l'ora ma se l'email partirebbe di venerdì viene rimandata clicco su attiva ecco qua e quindi questa email è stata attivata esco e ho la prima email di questa campagna clicco su crea e genero l'email 2 in cui il nome emittente è sempre lo stesso in cui l'indirizzo email è quello che avevo registrato salvo e quando voglio inviare questa email clicco su salva e pubblica e la mando dopo l'email 1 con un ritardo di un giorno non imposto le altre opzioni perché non serve che te lo spiego di nuovo la salvo esco a questo punto l'email prima non ha ritardo parte subito appena parte la campagna l'email parte l'email 2 invece parte un giorno dopo quindi per esempio un modo estremamente efficace di convincere le persone a iscriversi alla tua newsletter è offrirgli un corso gratuito per esempio 5 giorni per imparare a fare le flessioni 5 email che ti insegnano la tecnica perfetta per fare le flessioni la prometti nella tua squeeze page e appena uno si iscrive crei l'automazione nella tua squeeze page inserisci l'utente nella campagna per le flessioni a questo punto la prima email sarà perché le flessioni sono importanti e gli arriva subito con ritardo zero perché appena l'utente entra nella campagna ecco quindi in questo modo si usano le campagne su system.io quante campagne puoi fare nella versione gratuita una sola anche qui è molto limitato ma c'è da aspettarselo perché paghi zero quindi un un uso buono all'inizio di questo piano gratuito di system.io è quello di pensare a un prodotto con un suo lead magnet che puoi mandare attraverso una campagna per esempio quindi un corso gratuito quindi squeeze page corso gratuito corso a pagamento e se funziona poi magari espandi con un piano a pagamento poi andiamo nell'ultima funzione che non ti ho ancora mostrato che è il blog allora clicchiamo su crea e chiamiamolo semplicemente blog il percorso sarà blog e possiamo decidere diversi modelli questi sono i modelli diciamo della home page del blog e sono tutti un filino troppo parocchi veramente ci vorrebbe qualcosa di più minimalista ne scelgo uno a caso salvo i template spesso cercano di fare troppo secondo me se vado a visualizzarlo vedi questa qui è sostanzialmente la home page del sito e posso cliccare sopra ci sono già 9 post per qualche motivo non c'è un modo per rimuoverle tutti in blocco quindi sarai costretto a cliccare sui tre puntini e poi su rimuovi ma in sostanza tu non crei un blog qui tu crei un sito un sito intero perché vedi ci sono i post che sono i tuoi articoli ci sono le pagine che sono le pagine fisse quindi come puoi vedere la home page la pagina degli articoli la pagina chi siamo l'about e la pagina contatti e le vabbè le categorie degli articoli quindi qui stai creando un sito intero e partiamo dalle pagine ogni pagina può essere modificata e l'editor è esattamente quello che avevamo visto di là solo che ci sono alcuni elementi diversi quindi non ci sono gli stessi che vedevi nella pagina del carrello ma trovi per esempio l'elemento che raccoglie tutti gli ultimi post l'elemento del carosello e alcune cose peculiari di questa pagina qui di nuovo non andare a tormentare troppo questo template se ti scegli un template vicino a quello che ti piacerebbe e usalo quando avrai 100.000 visualizzazioni di pagina al mese allora magari vai a personalizzarlo e se vuoi puoi cliccare su non utilizzare il blog layout e la pagina viene disattivata la traduzione è sbagliata sostanzialmente la pagina viene disattivata in questo layout la pagina contatti può essere interessante da guardare perché contiene il modulo di contatto e sostanzialmente però non c'è grande mistero vedi che semplicemente tra i tuoi elementi vai su contattaci e poi trovi quello che potresti aspettarti da una pagina di contatto è bello però che sia già che sia già stata creata per quanto riguarda i post se tu vuoi creare un nuovo post clicchi su crea quindi proprio un articolo ok mettiamo descrizione puoi scegli l'url che è utile dal punto di vista seo questa è l'immagine che poi si vede in cima ma che si vede anche nei social media clicchiamo su articolo ecco qua questa è un po' una complicazione se tu hai un sito wordpress o squarespace o ghost di solito hai un campo di testo in cui andare a scrivere qui tu apri l'articolo e non c'è nessun campo di testo allora cosa devi fare devi prendere testo metterlo qua dentro e qui ti cominci a scrivere purtroppo purtroppo lo trovi trovi un testo con la lineamento centrato incomprensibile quindi metti l'allineamento a sinistra e a questo punto scrivi però cosa succede quando scrivi gli altri paragrafi dici urca non c'è una distanza abbastanza grossa tra i vari paragrafi come si fa allora vai a vedere se si può fare qualcosa con la tipografia però tu non vuoi cambiare l'altezza della linea tu vuoi cambiare la distanza tra i paragrafi e come si può fare? purtroppo questo qui è una grossa limitazione perché se vuoi una distanza buona tra i paragrafi devi andare qui negli elementi e ogni volta che vuoi un paragrafo nuovo inserire un blocco nuovo di testo qui sotto però questo non va assolutamente bene una soluzione un po' da smanettoni che però è ottimale è usare un modulo di raw html per inserire delle istruzioni css che purtroppo non sono inseribili in nessun altro modo quindi trascini un elemento raw html clicchi su modifica codice e inserisci le istruzioni css che mettono più spazio tra i paragrafi se hai bisogno di questa informazione scrivimelo nei commenti e ti darò lì il codice che ti serve un'altra cosa utile è che hai visto quando inserisci un blocco di testo l'allineamento è centrato invece che a sinistra eventualmente tu puoi salvare i tuoi blocchi quindi adesso io ho selezionato questo blocco vado qui in alto vedi che c'è il salvataggio quindi salvo e lo chiamo blocco di testo default per esempio e eventualmente potrei fare un blocco principale che si sincronizza tutte le pagine in cui questo blocco è presente clicco su crea e il blocco sarà presente qui vedi c'è elementi e vicino c'è blocchi e miei blocchi e c'è il blocco di testo default così ogni volta che voglio con un clic solo inserisco il blocco con le impostazioni che ho messo io quindi comunque diciamo che la creazione dei post è estremamente macchinosa ma e volendo vedere le note positive invece la creazione del sito di per sé è molto snella e cliccando qui su blog layout io posso modificare il template che ho caricato all'inizio qui però devi metterci veramente un sacco di lavoro perché devi applicare le tue conoscenze di design eccetera vai a modificare solo veramente quello che ti serve per esempio il logo ecco quello ti servirà ma non smanettare troppo quelle distanze gli spazi eccetera te l'ho già detto alcune volte ma è veramente importante perché sennò ti ritrovi a usare un sistema che ti permette di risparmiare tempo e invece incartarti su cose che non sono quelle su cui dovresti investire il tuo tempo ok abbiamo visto tutto quanto quello che manca sono le impostazioni cliccando su impostazioni c'è un sacco di roba allora profilo account e mio piano ok sono le cose che puoi aspettarti ma è una parte interessante sono i sistemi di pagamento perché guarda quanta roba allora Stripe e Paypal ti conviene inserirli perché Stripe accetta direttamente le carte di credito Paypal invece accetta proprio Paypal quindi se uno non vuole usare la carta di credito può usare anche Paypal gli altri non sono tanto diffusi in Italia ma se hai un pubblico straniero in alcuni paesi specificamente questi altri strumenti sono utili e attenzione puoi anche attivare il pagamento in contante e la consegna cosa che non farei mai però se proprio vuoi qui puoi gestire alla voce gestisci i miei abbonamenti puoi gestire appunto gli abbonamenti quindi quando un cliente si abbona puoi vedere qui la lista degli abbonamenti qui registri i tuoi indirizzi email e li attivi e puoi anche vedi associare i domini attivare il doppio opt-in e una serie di cose utili quando mandi le email e non non è particolarmente indispensabile la voce sui corsi nella voce pagine di pagamento puoi specificare alcune impostazioni generali che si applicano a tutte le pagine di pagamento quindi se non vuoi addebitare l'iva la valuta predefinita le condizioni generali di vendita che tra l'altro sono simpaticamente già completate probabilmente non userai il system per la fatturazione però eventualmente vuoi mettere il footer della fattura qui poi ci sono tutte le opzioni relative ai funnel di vendita e in realtà è solo una quindi se vuoi aggiungere dei codici di monitoraggio per esempio il pixel di facebook poi ci sono le impostazioni del tuo programma di affiliazione qui puoi inserire diversi domini personalizzati ovvero hai comprato il tuo dominio tuonome.com e lo inserisci qui così lo puoi associare alle tue pagine le chiavi api pubbliche le generi per integrarti con altri con altri tool i webhook qui non andiamo sul tecnico ma per esempio per usare make.com se riesci a generare dei webhook poi fai quello che vuoi diciamo è molto interessante l'integrazione nativa con active campaign sinceramente se io stessi pagando per system.io non vorrei pagare anche per active campaign ma comunque se hai bisogno di automazioni email più sofisticate di un CRM più avanzato puoi integrare direttamente con active campaign questo è il sistema per il pagamento delle commissioni ai tuoi affiliati e poi tutta una serie di notifiche che puoi impostare per ricevere quando avvengono le vendite eccetera e qui è molto utile puoi aggiungere dei collaboratori al tuo workspace che permette di così di lavorare con altre persone per esempio alla creazione dei contenuti e questo è attivo già nella versione gratuita e poi c'è la voce sicurezza vabbè in cui puoi creare l'autodificazione a due fattori ma insomma niente di che c'è la voce sicurezza anche qui separatamente nel tuo profilo non capisco perché visto che c'è anche qui adesso abbiamo visto veramente tutto allora ti ricordo che ti ho mostrato tutto quello che ti ho mostrato lo puoi fare nella versione gratuita poi chiaramente ci sono dei limiti quantitativi come ti avevo detto ovvero per esempio puoi fare una sola campagna puoi fare una sola regola di automazione puoi fare solo un un flusso di lavoro eccetera ma i limiti li vedi tutti nella pagina dei prezzi un piccolo disclaimer sono un affiliato per system.io quindi se vorrai iscriverti con il link in descrizione guadagneremo una commissione ma come hai potuto ascoltare non ti ho presentato questo tool in maniera da vendertelo ti ho dato semplicemente una visione trasparente e autentica di quello che puoi fare quello che non puoi fare ti ho anche evidenziato quali sono le limitazioni se vuoi che io ti dia un verdetto secondo me essendo gratuito ti conviene provarlo se sei totalmente a zero non hai nessuno strumento per vendere online per mettere il sito eccetera ti conviene fare una prova e se proprio sbatti la testa contro qualcosa che è impossibile fare nella nella sezione gratuita col piano gratuito ma non vuoi comunque spendere soldi da zero allora ti conviene investigare altri tool che per quella stessa cifra magari fanno esattamente quello che ti serve spero che questo video ti sia stato utile se lo è stato ricordati di mettere mi piace e di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video ma in realtà visto che l'algoritmo fa quello che vuole iscriviti alla newsletter trovi il link in descrizione così riceverai delle contenuti esclusivi ma soprattutto verrai avvisato ogni volta che esce qualcosa di nuovo da Italian Indie e non dipenderai dalle notifiche di YouTube ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao